Nella mattinata del 3 dicembre a Napoli, presso il Palazzo Santa Lucia, è stato presentato il nuovo contratto quindicennale fra la Regione Campania e Trenitalia. Il contratto prevede un investimento di 681 milioni di euro e la maggior parte di questa somma, 388 milioni di euro, 208 da Trenitalia e 180 dalla Regione, verrà utilizzata per l'acquisto e la messa in servizio di 37 nuovi treni, fra cui il nuovo modello ROC e i convogli di media capacità. Arriveranno sulle 16 linee regionali 25 nuovi ROC e 12 treni di media capacità per un totale di 37 nuovi treni a disposizione dei pendolari. Il primo ROC arriverà nel 2020 e saranno tutti presenti sulle ferrovie entro il 2024, mentre quelli a media capacità saranno gradualmente a disposizione entro il 2025. L'obiettivo è quello di rinnovare totalmente la flotta regionale dei treni e di rendere sempre più ottimale il servizio offerto nella Regione Campania da Trenitalia. Per illustrare il piano erano presenti insieme al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, anche l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie di Stato italiano Gianfranco Battista, l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono e il Presidente della Quarta Commissione Trasporti del Consiglio regionale, Luca Cascone. Il Presidente De Luca ha definito questa giornata come molto importante per noi, citando anche la sua prima riunione con Trenitalia, il debito di 150 milioni presente ai tempi. Ricordo la prima riunione con Trenitalia dopo l'insediamento. Volevamo discutere di servizi e frequenze, ma qualcuno con garbo ci fece notare che la campagna aveva un debito da saldare di 150 milioni di euro. L'abbiamo fatto producendo uno sforzo enorme per il risanamento finanziario della Regione. Nel contratto sono previsti investimenti per 681 milioni, di cui 180 della Regione. Senza gli investimenti della Regione e i soggetti da noi coinvolti, oggi avremo una crisi drammatica. Grazie all'accordo si amplia il servizio a 10,5 milioni di treni chilometri all'anno, previsti con un aumento di 400 mila chilometri nel 2020.